E questa mattina c'è un po' di barahonda fuori il palazzo comunale, aspettate probabilmente qualcuno per avere delle risposte, ma per capire meglio cosa sta succedendo bisognerebbe fare un passo indietro di qualche anno, quasi sette, e arrivare al 2009. Esattamente così, perché noi dal 2009 al 2013 abbiamo ricevuto un acconto sull'importo totale delle Royals. E allora su accordi fatti in prefettura eravamo stati d'accordo che la regione avrebbe preso in mano la situazione e incominciare a pagare dal 2014 in poi, cosa che è passato un anno circa e ancora noi siamo qua a chiedere i diritti di tutti i nostri dipendenti e soci delle cooperative. Con lei invece facciamo un percorso diverso, parliamo di un'iniziativa che era stata praticamente dirottata verso gli altri stati, parliamo di una vostra visita direttamente a Bruxelles per ottenere questo documento, ma vorrei che spiegasse bene lei i dettagli. Niente, la regione Calabria all'epoca non mandava più l'eroe tra i pescatori, non il comune, era una cosa diversa, il comune con i pescatori sono due cose ben diverse, perché noi l'abbiamo ottenuto direttamente al governo italiano all'epoca del 98 ed ha un capitolo a parte col comune, non ha niente a che vedere. Praticamente abbiamo ottenuto il documento dove dice che non esiste l'incompatibilità con altri pescatori d'Europa, perché in altri stati d'Europa non ci sono le piattaforme che danno impedimento la pesca come attualmente fanno con noi, perché noi abbiamo impedimenti della riserva marina che si giunge con le piattaforme. Poi abbiamo l'inquinamento lungomare a partire del porto fino a Gabbella, proibito già dal 2000, sia dal sindaco Vallone dell'epoca e anche da Vallone, e della capitaneria di porto che non si può pescare dall'entrata del porto, giustamente, non noi ma la piccola pesca, fino a Gabbella Grande. Praticamente tutti questi inquinamenti ce li assorbiamo noi, creati sempre dell'ENI e non ha niente a che vedere con l'incompatibilità della comunità europea. Assessore, dopo circa due ore si è concluso l'incontro con i signori che questa mattina giustamente protestavano per avere delle informazioni, ma realmente che cosa è successo e che cosa si farà? Beh, c'è stato un tavolo più che altro di chiarimento, un tavolo tecnico dove loro giustamente si hanno riportato le loro rimostranze per questa mancanza di royalty che sono relative all'annualità 2014-2015. Noi abbiamo potuto prendere intanto in carico tutta la documentazione che ci hanno consegnato. Abbiamo rinviato la riunione alla prossima settimana, dopo che col sindaco incontreremo gli altri sindaci dei comuni costieri qua della nostra provincia, dove parleremo di rimodulazione delle royalty. Una volta fatto questo incontro possiamo poi procedere eventualmente alla regione in un incontro con la dottoressa Barbalace, l'assessore alle attività produttive regionale, vediamo il da farsi. Sicuramente non lasciamo i pescatori da soli. E per quanto riguarda invece il residuo degli anni 2009-2013? Allora, noi abbiamo letto delle carte, proprio stamattina al tavolo con l'oro. Da quello che si evince dalle carte, in realtà quello che è stato dato, è stato dato anche a chiusura e a tombatura delle annualità pregresse. Alcuni pescatori ci dicevano che in realtà avanzano ancora un residuo. Per il momento pensiamo alle annualità 2014-2015. Una volta ottenuto questo, vediamo per le annualità precedenti.